Dichiara di averci pensato molto sull'opportunità o meno di tornare ad impegnarsi nell'azione politica il manager Giovanni Venuto che da anni si occupa di valorizzare e promuovere nel mondo le eccellenze delle produzioni molisane. Le difficoltà del momento ed una forte criticità verso coloro che governano ed amministrano in ogni stanza il Molise lo ha infine spinto a ritorno nei percorsi politici scegliendo di volersi impegnare nel Movimento 5 Stelle offrendo la propria collaborazione già in questi giorni che pregludono alle elezioni amministrative soprattutto di Boiano e di Sernia. Sono passati 25 anni da quando lasciai la politica e non ho niente da ramaricarmi perché mi dimisi da cariche importanti che avevo nella città in cui vivevo Marino provincia di Roma. Avevo promesso anche alla mia famiglia di non tornare in politica ma non è che io mi voglio agire a Salvatore della Patria ma vivo qui in Molise e lavoro da 20 anni. Ho fatto la consulenza di aziende che oggi sono per fortuna ben messe nel mondo ma vedo che la politica che dovrebbe sostenere le aziende è assente completamente e l'ultima cosa peggiore che abbia visto è stata la borsa del turismo dove tutte le regioni italiane erano presenti con grandi stand e noi con una piccola azienda del Matese siamo dovuti andare a spese dell'azienda. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e oggi voglio mettere la mia esperienza che ho fatto tanti anni fa al servizio di questi giovani del 5 Stelle perché sono giovani vanno aiutati per quanto riguarda adesso le elezioni amministrative, Boiano, Isernia, sono a disposizione di tutti i meetup che esistono in regione per dare quel pizzico di esperienza e quel pizzico di consigli che penso di poter avere visto il mio escursus passato.